Commemorazione di Giovanni Palatucci, il questore depone un mazzo di fiori di Nancy La Stele, sita nel largo a lui dedicato. Il 10 febbraio del 1945 è morto Giovanni Palatucci, ex questore di fiume. Oggi il questore di Siracusa Roberto Pellicone ha commemorato l'ex funzionario della Polizia di Stato deponendo alla presenza del signor prefetto dottoressa Raffaella Moscarello e di una rappresentanza dei poliziotti, di poliziotti in servizio e in quiescenza un mazzo di fiori di Nancy La Stele è a lui dedicata nell'omonimo largo a pochi metri dalla costruzione Redusea. Il cappellano della Polizia di Stato Giuliano Gallone al termine della cerimonia commemorativa ha guidato un momento di raccoglimento e di preghiera. Giovanni Palatucci nasce a Montella, provincia di Avellino, il 31 maggio del 1909 e svolge il servizio militare a Moncalieri come allievo ufficiale di complemento e scritto al Partito Nazionale Fascista. Nel 1932 consegue la laurea in giustizia a Torino, nel 1936 giura come volontario vice commissario di pubblica sicurezza, nel 1937 viene trasferita la questura di Fiume come responsabile dell'ufficio stranile e poi come commissario e questore reggente. Nella sua posizione di funzionario dello Stato, a modo di conoscere l'impatto che le leggi razziali hanno avuto sulla popolazione ebraica, in quel contesto tenta di fare quello che la sua posizione gli permette, grazie alla sua opera di grande coraggio e di vivida umanità riesce a salvare circa 5.000 ebrei dalla follia nazista. Il 22 ottobre a causa dei suoi eroici gesti viene arrestato e trasferito nel campo di sterminio di Dachau, dove morirà pochi giorni prima della liberazione, il 10 febbraio 1945 a soli 36 anni. Nel 1990 è stato insegnato dell'onoreficenza di giusto tra le nazioni. Nel 1995 lo Stato italiano gli ha conferito la medaglia d'oro al merito civile. Papa Giovanni Paolo II lo ha annoverato tra i martiri del XX secolo. Nel 2004 si è conclusa la fase di cesena nel processo di beatificazione ed è stato proclamato Servo di Dio.